Oggi sono a Discoteca Razziale e ho l'onore e il piacere di parlare con Giosada. Ciao a tutti, ciao. Ciao, allora siamo qui per il tuo grandissimo successo Volando al Contrario, un nuovo album, un nuovo singolo e soprattutto il continuo di una carriera che inizia da esageratamente bene. Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa dobbiamo aspettarci da questo tuo nuovo capolavoro? Grazie per il capolavoro, diciamo che mi piace considerarlo l'inizio, mi piace considerarlo il primo approccio a questo mondo che prima era distante da me e da noi, quindi ci stiamo ambientando e questo è quello che siamo riusciti a fare in questi nove mesi. Il nostro bambino è nato, sono contento di abbia avuto la mia stessa gestazione, ossia che è concepito a dicembre e nato a settembre, come me, quindi vediamo, vediamo, vedremo come succede. Bene, ti voglio lasciare subito ai tuoi fan, perché ricordiamo che abbiamo già avuto un'intervista insieme e ti chiedo, per quanto riguarda il tour, puoi già accennarci qualcosa? Cosa dobbiamo aspettarci? Qualche data? Sì, diciamo che le date sono state pubblicate, sono sulla mia pagina Facebook, sono su tutti i social, ci sono. Partirà la prima data è a New York, quindi la seconda a Los Angeles e poi dal primo dicembre partiranno a Roma, Lucade, Cesena, Torino, ce ne saranno un bel po' e poi saranno in continuo aggiornamento dopo queste prime date. Benissimo. Ti chiedo soltanto un saluto per i nostri ascoltatori di Radio Smeraldo e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Vive il lupo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Smeraldo, a presto ci vediamo online. Ciao! Ciao!